Sorpresa, sorpresissima! Ecco il burro. Ok, facciamo la glassa. Ma mi sa tanto che la glassa però non si fa così, ci va la frutta. Non essere sciocco, ho visto la cuoca prepararla centinaia di volte e la frutta ci va solo dopo come decorazione. Guarda, così è magnifica! Non toccare! Perfetto, inizia a mettere a posto, io finisco qui. Ti ti ti, ti ti ti. Ok, porto questa. E ora siamo pronti. La mettiamo al centro così mamma sarà molto stupita. Ma cosa hai fatto? Non lo so! Oddio! Sei stata tu! Ma come sono stata io? Eh ma tu l'hai fatto lì e quindi è andato lì anche. Non si preoccupi, sarà tutto bellissimo, tutto perfetto. Perfetto! Oh mio Dio! Non l'ha presa bene! Ma cosa avete combinato? Avete rovinato tutto il lavoro della cuoca! E chi lo sente, George? Questa sera era speciale per lui, per le sue ospiti! Ma non era la tua serata con le amiche? Eh no, tutto malinteso! Questa opera è di una mente malinea che ci voleva far... assost senta, YouTube... Grazie a tutti.